Buongiorno, ben trovati appuntamento con Mattino 6 di venerdì. 18 maggio 2017, oggi si venera a San Giovanni, vescovo della Chiesa Cattolica. Apriamo come sempre con le prime pagine dei quotidiani abruzzesi. Iniziamo con il centro, la prima pagina del quotidiano oggi in edicola che riguarda la Pescara. Vediamo quali sono i titoli principali. Ecco qui si parla di cronaca, blitz dei nas, tatuaggi chiusi, due studi abusivi. A Pescara attività non autorizzate, pericoli per la salute, sette multe. Poi vedete la foto a centro pagina perché ieri i familiari delle vittime della tragedia di Rigopiano sono state ricevute a Roma a San Pietro da Papa Francesco. Vediamo anche gli altri titoli che riguardano il giornale oggi in edicola. Pescara, l'invasione dei bersaglieri e festa grande in città sono iniziate le celebrazioni per il 65esimo raduno nazionale delle penne più umate. Poi ancora cronaca, Bidello muore a 52 anni a Pescara, sono stati donati gli organi. E poi provincia, oggi tutti a Roma contro i tagli. Ci sarà la protesta e per quanto riguarda la provincia di Pescara sarà presente il presidente Antonio Di Marco. Poi spostandoci dall'altra parte della prima pagina, di spalla sulla sinistra, i dati Istat, l'Italia paese di pensionati e impiegati. E poi discariche, cambiando argomento, l'Abruzzo paga 13 milioni. Vediamo anche qualche titolo in alto, uno in particolare che riguarda lo sport nazionale, Coppa Italia. La Juve vince il primo trofeo, adesso l'assalto al triplete. Lazio battuta in finale allo Stadio Olimpico di Roma. Siamo alla prima pagina del centro edizione di Teramo. Acqua a confronto a Asle e Ruzzo. Oggi il forum del centro sulla gestione dell'emergenza. Ricorderete quanto accaduto alcuni giorni fa proprio per le problematiche dell'acqua, soprattutto in provincia di Teramo. E poi, restando sempre in provincia, gasdotto esploso a Pineto, la richiesta dei PM, processo per 21 tecnici. E poi la storia di un senza tetto che diventa ricco grazie ad una eredità. E poi al Badriatica, Carnevale, salta l'accordo sulla data. In basso, lo abbiamo visto anche nell'edizione di Pescara, c'è l'intervista a Nicola Marini, neopresidente dell'Ordine Nazionale dei giornalisti abruzzese. Si parla proprio della famiglia Marini, una famiglia di giornalisti. Nicola Marini, che per tanti anni è stato giornalista del Sederai Abruzzo, in passato anche giornalista del quotidiano Il Tempo, così come il papà e anche la sorella Stefania Marini, dunque una dinastia di giornalisti. Andiamo avanti, perché siamo ora alla cronaca di Chieti, alla prima pagina del centro di Chieti. La cronaca, in questo caso a San Salvo, narcotizzati in casa dai ladri, famiglia si sveglia in stato confusionale, il figlio di 23 mesi in ospedale. E poi si parla nelle cronache delle elezioni per il nuovo rettore dell'Università d'Annunzio, dopo la seconda tornata di voti, Stupia è sempre primo, ma Caputi si rafforza e dunque si va avanti, perché non è stata raggiunta la maggioranza. Poi Lanciano, lettrodotto, terna processo per falso, a tessa droga spacciata in fabbrica, coppia arrestata. E chiudiamo per quanto riguarda il centro con la prima pagina dell'edizione dell'Aquila. Pezzopane, io totalmente strane, appalti e politica, la senatrice replica a Capogno. Io, indagata, non so niente, ha detto la senatrice Stefania Pezzopane. Poi l'Aquila, crollo in via d'Annunzio, 13 morti senza colpevoli. A Carsoli, molesta a bimbo di 12 anni, finisce nei guai. A Sulmona, invece, le pagelle del sindaco Casini. Agli assessori. E siamo alla prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero. il titolo principale riguarda questa storia che arriva da Ateramo. Clochard eredita e diventa ricco. Gianni Di Rocco, terramano, da 13 anni vive da senza tetto a Rapallo. Una zia abruzzese gli ha lasciato una fortuna in denaro immobili. Mi ricorderò dei poveri, dice lui. E poi, vedete anche sul messaggero, questa foto con l'incontro del Papa con i parenti delle vittime della tragedia di Rigopiano. ricorderete il 18 gennaio scorso questa valanga che provocò la morte di 29 persone. E poi, passando e tornando alla cronaca, a San Salvo, bimbo di due anni e mezzo narcotizzato durante il furto. Poi di spalla c'è questo approfondimento sulla carta di Pescara, prove di disgelo fra la regione e le imprese. E poi vediamo in alto qualche altro titolo, lo show più atteso, Rolly e Trabucco, due musicisti, perdon, pescaresi in TV con la Raffaele. Poi a Pescara, alza bandiere fanfare via il raduno dei bersaglieri. Questo raduno che si concluderà, lo ricordiamo, domenica 21 maggio con la sfilata conclusiva lungo le strade del centro di Pescara. E poi lo sport, il rugby, con il sogno promozione dell'Aquila, a tifosi mobilitati per la finalissima di Parma. Dunque formazione nero-verde vicina al ritorno nella massima serie di rugby nel campionato elite. Siamo alla prima pagina del quotidiano La Città. Il titolo principale riguarda l'inchiesta sul gasdotto esploso a Pineto. Snam sotto accusa. La procura chiude l'indagine sull'incidente di Mutignano e chiede il processo per 21 responsabili della società. E poi vedete anche sul quotidiano La Città questa storia di questo senza tetto abruzzese, Terramano, in questo caso, che grazie all'eredità di una zia diventa milionario. Lasciamo dunque le prime pagine dei quotidiani abruzzesi oggi in edicola e dall'Abruzzo ci spostiamo invece all'edicola nazionale e come sempre per andare a vedere i titoli principali dei quotidiani che troverete oggi in edicola. Partiamo dal Corriere della Sera Russiagate la beffa di Putin. Si parla di quello che sta succedendo negli Stati Uniti e che riguarda il Presidente Trump. Pronti a svelare il colloquio chiave di Trump. Donald però risponde il Presidente americano non mollerò mai in alto legge elettorale a giugno Renzi ci prova Napolitano ipocrisie sul caso intercettazioni dice il Presidente emerito della Repubblica. Dal Corriere della Sera al quotidiano la Repubblica attacco a Trump non mollo l'ombra dell'impeachment per il Presidente americano. Poi il messaggero Trump rischia stato d'accusa spettro impeachment per i dati passati ai russi nominato investigatore Super Partes e poi vedete a centropagina la fotonotizia che riguarda lo sport Lazio Amara Coppa Italia perché la vittoria è andata alla Juventus per 2 a 0 vedete nella foto in primo piano Di Bala e Iguain con la Coppa in mano. In basso c'è una notizia che poi approfondiremo tra qualche minuto sul cyberbullismo ora c'è la legge ma le ramanzine non bastano c'è questo approfondimento dunque sulla nuova legge che riguarda il cyberbullismo siamo al quotidiano il tempo c'è posto in camera Montecitorio prepara un concorso pubblico per assumere personale richiesti ingegneri e informatici ecco quanto guadagnano i dipendenti siamo al quotidiano la stampa di Torino Bufera Russia Gate i democratici inchiesta su Trump Putin prova a difenderlo pronto a rivelare il colloquio con il ministro degli esteri Lavrov proseguiamo il quotidiano il giornale Blitz di Renzi per votare subito aria di elezioni svolta sulla legge elettorale pronta a fine mese a giugno in aula proseguiamo con Libero altro quotidiano vicino al centro-destra banche parenti e tanti guai affossano tutto questo è il titolo principale di Libero e poi siamo al fatto quotidiano vedete in alto si parla della vicenda Trump-Russia Trump rischia di fare la fine di Nixon con l'impeachment poi a centro pagina rimozione forzata vogliono imboscare tutto da Consipa e Truria i partiti chiedono di imbavagliare chi racconta i fatti scrive il fatto quotidiano il mattino di Napoli ipocriti il grido di Napolitano nessuno vuole cambiare le intercettazioni il caso Consip oggi approda al Consiglio Superiore della Magistratura e anche sul mattino ritroviamo in basso di spalla questo titolo che riguarda il caso 007 Trump rischia l'impeachment Putin lo difende il quotidiano della CEI avvenire messa sotto accusa Trump ora rischia Putin lo difende pubblico il dialogo con Lavrov e poi una notizia che riguarda le apparizioni a Maggiugori credibili le prime sette apparizioni questo quanto emerso dalle diciamo dagli approfondimenti voluti proprio da Papa Francesco l'ultima notizia che troviamo sulla prima pagina del quotidiano avvenire riguarda questa indagine dell'Istat Italia più vecchia e diseguale divisa in nove classi secolo XIX il quotidiano genovese torre piloti condanna e rabbia giolli nero dieci anni al comandante i parenti delle vittime non basta penne ridotte per quattro imputati rispetto alle richieste assolto il manager Messina ricorderete forse alcuni di voi ricorderanno questo incidente accaduto al porto di Genova e poi la gazzetta del mezzogiorno come si vota nuova giostra scontro sulle intercettazioni Napolitano dice ipocrita chi ora si lamenta Italia ancora più povera addio alla borghesia e alla classe operaia siamo al quotidiano il dubbio al 41 bis a 90 anni suonati si chiama crudeltà di stato Rita Bernardini esponente dei radicali denuncia la follia del carcere di Parma uno ha l'Alzheimer siamo al gazzettino di Venezia l'Italia ha perso la classe media anche sul quotidiano Veneto troviamo questo articolo che riguarda il rapporto dell'Istat crescono le diseguaglianze le famiglie senza un lavoro rappresentano oggi il 13,9% del totale siamo al quotidiano il manifesto un po' di tortura questo è il titolo principale del quotidiano di sinistra dopo 28 anni scrive il manifesto dalla ratifica delle convenzioni ONU il senato introduce il reato di tortura ma il testo non soddisfa le associazioni per i diritti umani un altro titolo che riguarda il manifesto vedete in basso sotto la foto e ovviamente si parla del Russia Gate Casa Bianca fuori controllo scrive il manifesto Trump in zona impeachment siamo al quotidiano la verità il nocciolo dello scandalo Consip il denaro sotto la mattonella per Paparenzi scrive il quotidiano la verità nessuno lo cerca è l'ultimo quotidiano la verità per quanto concerne la rassegna stampa nazionale a proposito di quotidiani in edicola oggi per quanto riguarda i quotidiani nazionali andiamo a vedere a proposito anche di sport perché ieri come abbiamo visto anche dai titoli dei quotidiani oggi in edicola si è giocata la finalissima per l'assegnazione della Coppa Italia primo trofeo della stagione e la vittoria è andata alla Juventus vedete come celebra la vittoria bianconera la gazzetta dello sport Juve e uno Daniel Vesebonucci stendono la Lazio in 25 minuti 2 a 0 il finale per i bianconeri allegri il terzo successo di fila adesso Scudetto e Champion per centrare il triplete e poi vedete una notizia che poi ritroveremo anche sugli altri quotidiani il dramma di Hayden l'ex campione della MotoGP travolto in bici e in condizioni molto gravi siamo al Corriere dello Sport Juve 1 primo titolo vinta la Coppa Italia vedete la foto con la festa dei bianconeri e poi anche sul Corriere dello Sport l'incidente che ha coinvolto Hayden che lotta per la vita travolto in bicicletta da un'auto chiudiamo per quanto riguarda i quotidiani sportivi nazionali con Tutto Sport e uno in pratica tutti uguali i titoli non poteva essere diversamente Trionfo Juve terza Coppa Italia consecutiva per la formazione bianconera prima in classifica anche in campionato allora possiamo tornare ai quotidiani di casa nostra dopo aver visto i titoli dei giornali oggi in edicola per quanto riguarda proprio l'edicola nazionale ora possiamo andare a vedere tornare al quotidiano il centro per vedere le pagine interne a pagina 2 si parla dell'udienza romana il Papa che ha incontrato lo vedete con questo corredo di foto ieri a San Pietro i familiari delle vittime della tragedia di Rigopiano vedete il Papa che saluta calorosamente abbraccia anche idealmente tutte le persone presenti a Roma l'incontro con i parenti delle vittime per loro un sollievo andiamo avanti si parla invece poi della stangata sui rifiuti di scariche fuori legge multa da 13 milioni inchiesta della Corte dei Conti sull'Abruzzo finito nella lista nera dell'Unione Europea e poi a fianco vedete a pagina 5 si parla invece di acqua perché è stato svelato leggiamo in questo titolo il rapporto shock cloroformio nickel e altri veleni nei fiumi e corsi sotterranei abruzzesi la denuncia arriva dal forum dell'acqua forum dell'H2 vedete nella foto l'esponente del forum dell'acqua augusto De Santis che ieri siamo andati ad ascoltare nel corso di questa conferenza stampa che si è tenuta a Pescara vediamo decine di migliaia di dati dell'arta che restituiscono uno stato inaccettabile della risorsa acqua e il dossier intitolato acqua in Abruzzo 2017 i dati e le ragioni del fallimento curato dal forum abruzzese dell'acqua che dati alla mano su inquinanti in fiume e falde rilevati in centinaia di punti critici delle quattro province chiede alle istituzioni e in particolare a regione Abruzzo di fermare ulteriori progetti impattanti moltiplicare gli investimenti e copiare le buone pratiche altrui il rapporto riassume rielabora le norme dati messi a disposizione dall'agenzia regionale per il territorio dell'ambiente raccolti raccolti negli ultimi anni per tutti i corsi d'acqua abruzzese e per le acque sotterranee il quadro che viene rappresentato dice il forum è drammatico con numerosissimi e diffusi casi di inquinamento delle acque sotterranee per nitrati ione ammonio e solventi clorurati inoltre la stragrande maggioranza dei fiumi non rispetta gli obiettivi di qualità fissati dall'Unione Europea abbiamo avuto 15 anni per metterci in regola arriviamo a questo appuntamento del 2015 con ormai superato con il 71% dei fiumi che non rispetta l'obiettivo di qualità e il 52% dei corpi idrici sotterranei c'è l'acqua di falda cioè praticamente una situazione esplosa ora c'è bisogno di cambiare rotta il caso del Gran Sasso peraltro un ulteriore allarme su un corpo idrico sotterraneo cioè su un acquifero fondamentale come quello del Gran Sasso che dà acqua a tre province ora bisogna cambiare rotta come? intanto la Regione Abruzzo è inadempiente dal 2006 per i vincoli sulle aree di ricarica delle falde non si può continuare a mettere cave impianti industriali sopra le zone dove che sono importanti per ricostituire le falde acquifere e non per inquinarle e la Regione Abruzzo un po' come la carta delle valanghe per Ricopiano inadempiente da più di un decennio e quindi bisogna risolvere questo colmare questo vuoto normativo ma poi bisogna attuare delle politiche di risanamento dei fiumi intanto togliere le discariche lungo i fiumi che ormai stanno diventando un'emergenza e sono già un'emergenza poi bisogna rinaturalizzare i fiumi con le fasce ripariali cioè la vegetazione deve poter stare lungo le sponde perché sono un filtro molto importante per gli inquinanti e poi cambiare anche metodi di agricoltura e lasciare più acqua nei fiumi dalle captazioni a scopo idroelettrico Cambiamo argomento l'Italia che cambia classe operaia addio troppe fratture sociali si parla di questo rapporto dell'Istat mentre a pagina 7 si parla invece di cyberbullismo della guerra il cyberbullismo è possibile ora oscurare il web e a proposito di cyberbullismo è arrivata la legge è stata approvata in Parlamento dunque esiste c'è da oggi la nuova legge sul cyberbullismo noi abbiamo realizzato in merito un servizio che andiamo a vedere regalare uno smartphone a un preadolescente è come dargli una Ferrari ma senza la patente non usa mezzi termini Paolo Picchio quando si rivolge ai giovani studenti della scuola media Umberto I di Lanciano per raccontare il primo caso di vittima in Italia per cyberbullismo quella vittima era sua figlia Carolina morta a suicida nel 2013 a 14 anni per colpa di 5 coetane e un maggiorenne per i primi la giustizia ha deciso la messa in prova ai servizi sociali per l'unico maggiorenne del gruppo una condanna di un anno e 4 mesi insomma la rivoluzione digitale colpisce più deboli e quanti non sono preparati ad affrontare le insidie che si cedano in rete genitori e insegnanti sono chiamati a fungere da sentinelle perché c'è un nuovo pericolo in più che a volte può diventare mortale i ragazzi avverte Paolo Picchio non si rendono conto che il web è reale come la vita Picchio adesso in Italia sta organizzando il primo centro con psicologi e pedagogisti che si occupano di sconfiggere il cyberbullismo riprendere il colloquio e dare l'esempio perché purtroppo oggi sempre di più i genitori utilizzano lo smartphone come il babysitter digitale e questo è un gravissimo errore perché il ragazzo oltretutto i genitori sono ignari che attraverso lo smartphone anche il bambino di 5 anni ha accesso a siti che neanche sono immaginabili e poi il fatto che se vede che qualsiasi sintomo di variazione dell'umore dei ragazzi è una sentinella d'allarme che va immediatamente capita e quindi cominciare a parlarne anche se il ragazzo non vuole ma cercare di indagare e se non si riesce portarlo da uno psicologo perché è importantissimo quello che dico sempre che questi segnali non decadano in una patologia che poi è gravissima perché il ragazzo tenta isolarsi siamo alla cronaca regionale sempre dalle pagine del centro si parla della carta di Pescara che raccoglie adesioni già iscritte 80 imprese condivisi i principi di sostenibilità economica ambientale e sociale Confindustria l'unico punto debole dice è la burocrazia poi cambiando argomento lunga vita alle trivelle cambiate il decreto 12 miglia mozione di sinistra italiana alla camera ma si chiede e chiede sinistra italiana si muova anche la regione andiamo avanti per arrivare alle cronache dalle nostre province partiamo da Pescara blitz nei laboratori dei carabinieri del NAS tatuaggi pericolosi chiusi due studi abusivi attività sospese a Pescara e Chieti scattano sette maxi multe scoperti nei laboratori colori rischiosi per la salute e attrezzature fuori legge poi controllate nelle case il presidente dei tatuatori abruzzesi dice in giro tanti ciarlatani proseguiamo cronaca tragedia in casa due giorni fa morto dopo la caduta donati gli organi Giuseppe Latorre 52 anni lavorava come bidello nella scuola e Rai Alpi espiantati cuore fegato reni e polmoni ancora cronaca da Pescara preso dopo lo scippo ad un'anziana giovane strappa la borsetta ad una pensionata la fa cadere i passanti lo braccano e poi arrivano i carabinieri che fermano questo giovane e poi strade groviera siamo a Pescara quante cadute per le buche vogliamo i risarcimento l'ultimo caso in Viale Marconi un'anziana inciampata ed è finita in ospedale decine di cittadini hanno chiesto informazioni all'ASCOM ecco come difendersi vedete dalle foto lo stato di alcune strade di Pescara in basso partono i grandi lavori alla Pineta la regione stanzia 350 mila euro per rifare i percorsi i bagni ed il ponticello alla Pineta d'Avalos di Pescara andiamo avanti provincia di Marco e dipendenti a Roma protesta contro i tagli e ci sarà oggi questa manifestazione nella capitale dopo la minaccia di chiudere strade scuole gestite dal lente oggi la mobilitazione per ottenere fondi e salvare gli stipendi e poi iscrizioni aperte da oggi torna lo sport non va in vacanza e sabato ci sarà il procuratore generale Cardella in provincia a Pescara per parlare di mafia con i ragazzi delle scuole andiamo avanti restiamo sempre su questa pagina si parla di imprese edili con il rischio licenziamenti lo dice Marco Sciarra dell'Ance l'associazione costruttori lancia l'allarme sulla cassa integrazione ripristinate le commissioni Inps chiede Sciarra e poi in basso drone per i ragazzi del Mantone consentirà agli studenti di seguire il corso di pilotaggio degli aeromobili dopo aver visto l'inserto sull'agricoltura arriviamo alla pagina in cui si parla dell'inizio dell'avvio delle manifestazioni per il 65esimo raduno nazionale dei fanti piumati a Pescara ovvero dei bersaglieri e festa grande ieri per l'apertura della manifestazione in città inaugurata la mostra di Cimeli sfila la prima fanfara vedete le foto tantissimi ieri hanno assistito a queste prime celebrazioni sono attesi a Pescara almeno 90.000 bersaglieri andiamo ancora avanti con mostri sul mare ora c'è lo sconto Francavilla in consiglio nuovo provvedimento urbanistico la minoranza dice così si svende il nostro patrimonio pubblico e poi a San Giovanni Teatino parla il sindaco Marinucci che dice sul comune girano notizie infondate dice il primo cittadino di San Giovanni Teatino Montesilvano la città d'estate il timore dei commercianti i negozianti dicono dateci tanti piccoli eventi per l'isola pedonale e poi immigrazione oggi in consiglio comunale straordinario si parlerà proprio di queste problematiche poi opere anti erosione scusate pronti 50.000 euro per Fosso Mazzocco e poi fine scuola in musica balli e scacchi grande festa oggi alle 15 per chiudere le lezioni con giochi e appuntamenti vediamo all'altra pagina dell'area metropolitana di Pescara fate dal via i lavori del nuovo campus a Santa Teresa e poi in alto Montesilvano fiume Saline quattro tralicci bloccano il ponte e poi in basso siti espropriati ma la strada non c'è protesta Villa Raspa in via Marche l'opera era stata avviata nel 2009 chiudiamo per quanto riguarda la cronaca di Pescara e provincia Caramanico tre giorni per sapere tutto su salute e benessere torna dal 2 al 4 giugno il festival dedicato al vivere bene e poi appenne alla Brioni il Femca il sindacato più votato e sempre tornando a Caramanico in questo caso cittadinanza onoraria per il figlio di Brod a Proda a Wellington la storia del caporal maggiore neozelandese salvato sul sentiero della libertà allora possiamo fermarci per qualche attimo e poi torneremo in studio per la seconda parte di mattino 6 eccoci di nuovo in studio seconda parte di mattino 6 restiamo sulle pagine del quotidiano il centro dopo aver visto le pagine di Pescara e provincia siamo la pagina di Chieti in cui si parla in primo piano delle lezioni per il nuovo rettore dell'università d'annunzio c'è stata ieri però una nuova fumata nera stupia sempre primo così come nella prima votazione si rafforza però il professor Caputi il voto del personale converge sul direttore di scienze mediche niente maggioranza assoluta oggi si torna alle urne e poi terna verso il processo per falso Lanciano chiesta l'imputazione dell'azienda in relazione agli scontri del 2015 leggiamo sempre qui dalle pagine del centro in basso invece ci spostiamo a San Salvo la cronaca addormentati dai ladri durante il furto famiglia si sveglia in stato confusionale il figlio letto di 23 mesi portato in ospedale siamo la pagina dell'Aquila a Palti e Politica la senatrice Pezzo Pane dice totalmente estranea la replica a Capogna io indagata non ne so niente e noi andiamo ad ascoltare nel prossimo servizio proprio le parole della senatrice del PD sono totalmente estranea ai contenuti delle dichiarazioni che secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa e dai giornali l'imprenditore Angelo Capogna avrebbe rilasciato agli inquirenti e la dichiarazione di Stefania Pezzopane senatrice del Partito Democratico coinvolta in una inchiesta giudiziaria relativa alla ricostruzione post terremoto all'Aquila ho saputo che sarei indagata dai giornalisti ha aggiunto che mi hanno chiamata per chiedere spiegazioni ma non ho ricevuto alcun avviso di garanzia confido come sempre nella magistratura che sono certa farà luce su questa oscura vicenda e arriverà alle giuste conclusioni la Pezzopane ha tenuto a precisare che smentisce con forza quanto avrebbe detto Capogna ai magistrati e avrebbe letto sulla stampa sottolineando come queste notizie emergano in piena campagna elettorale per le amministrative di giugno all'Aquila ed Avezzano una tempistica continua ancora la Pezzopane che insospettisce su un uso strumentale di queste accuse Al centro dell'indagine della procura di Avezzano ci sarebbe una presunta associazione per delinquere su un giro d'appalti in alcuni comuni della Marsica che vedrebbe anche un possibile caso di finanziamento illecito ai partiti Angelo Capogna originario delle Frusinate e l'amministratore della Sari 2 SRL che avrebbe gestito la pubblica illuminazione in numerosi comuni della Marsica L'uomo avrebbe raccontato agli investigatori della squadra mobile aquilana di due consegne di denaro entrambe da 5.000 euro a Stefania Pezzopane avvenute durante le elezioni alla provincia dell'Aquila nel 2010 quando la senatrice ricopriva la carica di presidente dell'ente la prima d'azione stando al racconto trascritto dagli investigatori sarebbe avvenuta all'interno della sede elettorale la seconda invece negli uffici container il periodo era quello post terremoto dell'Aquila del 2009 d'azioni entrambe alla presenza di testimoni la senatrice aquilana è indagata dalla procura di Avezzano per finanziamenti illeciti ai partiti servizio era di Alfredo Primante restiamo all'Aquila via d'annunzio tragedia senza colpevoli omicidio colposo assolto in appello l'ingegner Cimino che fece i restauri dello stabile siamo alla pagina di Teramo del centro il disastro del 2015 il metanodotto esploso la procura dice processate 21 dipendenti della SNAM sono tutti tecnici e amministrativi della società rete gas del gruppo l'accusa non aver messo in sicurezza la condotta minacciata dalle frane non aver monitorato il rischio idrogeologico e poi in basso la storia che arriva da Teramo eredità Faricco un senza tetto la storia di un teramano che ha perso tutto al gioco e che viveva in strada a Rapallo siamo alla pagina cultura spettacoli per le storie abruzzesi abbiamo visto anche in prima pagina la storia del nuovo presidente nazionale dell'ordine dei giornalisti Nicola Marini il giornalismo nel DNA c'è questa intervista realizzata proprio dal centro ho cominciato da ragazzino nell'era pioneristica di papà vedete poi qui i primi passi ad Avezzano al seguito del padre Luigi servizi di cronaca nera la carriera in Rai il neopresidente dell'ordine nazionale si racconta tra scoop e risate lasciamo le pagine del centro tra poco parleremo di sport andiamo a vedere ora lo faremo tra qualche istante invece le pagine dell'inserto Abruzzo del quotidiano il messaggero poi andremo a vedere le pagine interne del quotidiano la città di Teramo e poi parleremo di sport daremo uno sguardo ovviamente ai titoli alle notizie nelle pagine sportive dei tre quotidiani che prendiamo oggi in esame parleremo del Pescara anche del Teramo che lo ricordiamo domenica giocherà la gara di andata dei play-out salvezza di Lega Pro con il Lumezzane e vi preannuncio che andremo ad ascoltare anche un'intervista con il difensore della formazione Bianco-Rossa Nebil Caidi ma andiamo per ordine ripartiamo dal messaggero come vi dicevo seconda pagina dell'inserto Abruzzo la pezzopane nei guai per 10.000 euro denuncerò Capogna ha dichiarato la senatrice abbiamo visto pochi istanti fa il servizio su questo argomento di Alfredo Primante poi in basso in buona salute solo tre fiumi su dieci Abruzzo lontano dagli obiettivi dell'Unione Europea la maglia nera la provincia di Chieti dice il forum H2O nel Pescarese preoccupa il Saline avevamo visto il servizio poco fa pochi minuti fa con l'esponente del forum dell'acqua Augusto De Santis siamo alla pagina le pagine di Pescara del messaggero pregherò per i vostri cari scomparsi il racconto di Gianluca Tanda sull'incontro di ieri dei parenti delle vittime della tragedia di Rigopiano con Papa Francesco e poi l'inchiesta rischio valanghe l'interrogatorio decisivo la deposizione del dirigente Belmaggio potrebbe determinare la riunione dei due filoni telefoni e computer intanto riconsegnati ai parenti andiamo avanti bandiere e fanfare la festa comincia sono iniziate le celebrazioni come abbiamo anche visto in precedenza sul 65esimo raduno nazionale dei bersaglieri a Pescara poi cronaca donato a tutti gli organi l'uomo caduto dalla scala e poi le bande romene scatenate minore arrestato per furto e poi Rolli e Trabucco i talenti locali in tv con Virginia Raffaele proseguiamo area metropolitana di Pescara firme antimigranti e posti insufficienti il nodo dell'accoglienza previsto a breve l'arrivo di nuovi rifugiati i comitati insorgono ma noi non siamo razzisti il sindaco di Montesilvano perché siamo proprio nella cittadina adriatica incontra i contestatori oggi ci sarà un consiglio comunale straordinario e poi linea 21 parliamo degli autobus urbani di Pescara continua l'odissea degli utenti caos e proteste per i cambi di percorso e poi alla Brioni trionfa la Cisle buona la prova della Will ancora una notizia di cronaca sempre in questo caso da Pescara strappa la borsa ad un'anziana giovane bloccato dai carabinieri a Porta Nuova l'Aquila crollo con 13 morti assolto l'ingegner Cimino era l'unico imputato rimasto il costruttore impicciatore e in Venezuela e poi territorio collettivo unisce la società civile si parla delle prossime elezioni amministrative all'Aquila e poi invece per la cronaca giudiziaria imprenditori a giudizio per i canoni di affitto a tassi usurari e poi in basso la Sinfonica Abruzzese all'Auditorium del Parco mentre per quanto riguarda la perdonanza l'iniziativa tornerà anche nelle scuole aquilane siamo alla pagina di Avezzano Sulmona biblioteca sgomberata il sindaco pronta a chiudere la città siamo a Sulmona il sindaco Anna Maria Casini dice la regione ci dica se dobbiamo andare tutti via tutto nasce dallo stop all'agenzia di promozione culturale e poi a Carsoli sport e disabili summit con l'assessore regionale Silvio Paolucci nella Marsica poi presunta pedofilia incidente probatorio invece in basso tornando ad Avezzano per il rilancio del commercio commissione di tecnici e negozianti l'incarico politico è stato affidato all'assessore Marianella tornando in Valle Peligna Sulmona scuola bus solo andata e scoppia la polemica siamo alla pagina di Chieti parliamo ovviamente anche in questo caso non potrebbe essere diversamente delle elezioni per il nuovo rettore dell'università d'annunzio di Pescara Chieti altra fumata nera stupia resta ancora avanti si torna alle urne oggi con le stesse modalità ma scatta l'accordo fra Trinchese e Fusero e poi il raid furto in tribunale rubati soldi di snack e bibite e poi minacce e insulti all'ex ragazza giovane nei guai andiamo in basso il ladro ruba la borsa della maestra i genitori poca sicurezza scuola il fatto si è verificato alle scuole elementari di via Pescara durante le lezioni siamo alla pagina della provincia di Chieti di Lanciano Vastortona bimbo di due anni narcotizzato scusate dai ladri è stato un incubo il racconto delle vittime di questa azione malavitosa che si è verificata a San Salvo e poi a Dortona negozi in centro arriva la filodiffusione mentre a Vasto parla Suriani che dice a rischio anche la sede dell'Inps a Lanciano la cronaca fiamme in una officina a causa di questo rogo è stata evacuata una abitazione restiamo sempre nell'area frentana sempre a Lanciano segue in macchina il funerale del padre viene multato nella ZTL di Piazza Plebiscito l'uomo di Brescia ha scritto una lettera al sindaco di Lanciano Mario Popillo e poi spacciava alla Sevel arrestato un operaio questa notizia di cronaca che arriva sempre dall'area frentana della Val di Sangro in questo caso ci spostiamo a Teramo Clochard diventa milionario non dimenticherò i poveretti Gianni Di Rocco vive sotto i ponti a Rapallo la zia gli ha donato immobili terreni e denaro il demone del gioco mi ha rovinato ma non ho mai rubato grazie a Don Mazzi questa è la testimonianza di quest'uomo diventato milionario grazie alle dedità della zia cambiando argomento restiamo a Teramo verifiche sismiche mamme all'attacco il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi rassicura e poi impegno con il governo per salvare la sede della polizia postale sempre a Teramo in basso Val Vibrata bonifica di San Gabriele il caso finisce al ministero e poi acqua le bollette non vanno pagate Rosario Trefiletti è presidente nazionale di arci consumatori dice vicenda trattata in maniera oscura è poco chiara andiamo avanti pagina di Giulianova Roseto della Val Vibrata siamo a Giulianova riti satanici nella chiesa del cimitero ignoti hanno forzato la porta nella notte una volta dentro hanno dato fuoco all'altare rompendo candelabri ed altri oggetti sempre a Giulianova Matteo Ciprietti torna sul circuito di Misano e poi invece spostandoci in Val Vibrata dal Badriati che il mondo della scuola ricorda Domenico Pantone Pineto esplosione metanodotto 21 dirigenti della SDAM nei guai e poi a Giulianova si rimuovono il Deor domani Mido Fuoco dura conferenza dei titolari di Bestrò che oggi dovranno abbattere e poi Tortoreto e Martinsicuro si parla delle prossime elezioni comunali in questo caso come scrive il messaggero al veleno siamo arrivati alle pagine dello sport ma dobbiamo ancora andare a vedere cosa ci propone oggi il quotidiano La Città di Teramo avevamo visto in apertura dell'appuntamento di oggi con la nostra consueta rassegna stampa la prima pagina del quotidiano teramano ora attendiamo qualche secondo per andare a vedere ovviamente le pagine interne si parla anche l'abbiamo visto il titolo in prima pagina della questione riguardante il gasdotto di Pineto ora andiamo a vedere le pagine interne iniziamo da pagina 3 cronaca d'Abruzzo tre fiumi su quattro sono fuori dai parametri dell'Unione Europea la denuncia arriva dal forum H2O nel Teramano la bagna nera va al Calvano e al secondo tratto del Mavone e poi commissione bilancio approvata una risoluzione per salvare la polizia postale di Teramo in basso si parla di post terremoto il presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso chiede ai comuni di stringere i tempi sulle casette post sisma andiamo avanti dossier ruzzo terza puntata in questo caso un acquedotto per salvarci da sete e malattie l'SOS di un territorio povero senza strade carente di servizi igienici e continue epidemie mortali appello dei comuni per uno straordinario intervento dello Stato intanto arrivano le prime novità andiamo avanti siamo a Teramo questa storia di questo senza tetto milionario grazie all'eredità che ha fatto un po' il giro non solo della nostra regione ma anche del paese Gianni di Rocco dopo 13 anni passati a Girovagare al nord sta rientrando in città per incassare questa eredità e poi in basso l'evento Teramo invassa dagli antichi romani nel weekend alla villa comunale in centro la rievocazione storica delle battaglie con i Celti scuole sicure verifiche sismiche a rilento il comitato dei genitori per la sicurezza torna ad incalzare l'amministrazione sugli indici di vulnerabilità e poi la ricetta per spendere i soldi della funivia il presidente della provincia di Teramo Renzo di Sabatino presenta una proposta per non perdere i 10 milioni rifiutati dal comune e poi in via De Gasperi allarme cessato via le transenne dallo stradone dove che sta andando l'economia teramana l'università di Teramo il terzo forum organizzato dalla facoltà di scienze politiche e dal Rotary Club di Teramo l'anniversario il largo dell'8-0 intitolato all'onorevole cinque anni fa veniva a mancare Antonio Tancredi una targa ricorda il politico e mecenate Teramano vedete questo articolo con il corredo di foto proprio per questo anniversario per la scomparsa dell'importante politico Teramano siamo alla pagina della provincia la BCC Adriatico chiude l'anno con i conti solidi approvato dall'assemblea il bilancio 2016 con un utile netto di esercizio superiore al milione di euro e poi Penna Sant'Andrea successo per il corso sull'utilizzo del defibrillatore in basso Valle Castellana al voto il candidato sindaco D'Angelo presenta il suo programma elettorale e dice dobbiamo far tornare i cittadini a casa volere volare questa rubrica degli studenti del D'Annunzio mondo di laboratori al D'Annunzio il titolo principale di questa pagina siamo invece poi alla pagina che riguarda la cronaca dalla Val Vibrata Tortoreto al voto Nico Carusi inizia la campagna elettorale da Contrada Salino e poi invece a Sant'Omero dipendente infedele a processo ex dirigente comunale accusato di essersi intascato oltre 16.000 euro in basso a Martinsicuro la candidata del PD presenta le liste dei consiglieri comunali per le amministrative Elisa Foglia dice siamo gli unici con il coraggio del simbolo pagina di Giulianova minaccia di darsi fuoco per salvare il Deore i proprietari del Bestrò il comune ordina la rimozione dopo averci dato l'ok cronaca ancora ladri in azione all'interno del liceo Marie Curie e poi in basso nuova lezione sul verde dopo il crollo del Pino e poi gli eventi sempre a Giulianova passeggiata in centro storico in occasione del maggio dei libri siamo la pagina di Roseto di Pineto Atri e Silvi l'esposione del metanodotto chiesto il processo per 21 responsabili della Snam chiusa l'inchiesta per l'incidente che nel marzo del 2015 distrusse abitazioni e coltivazioni a Pineto e poi polemiche a Silvi l'ex amministrazione continua ad agire come se fosse ancora al governo in basso auto e moto si scontrano a Roseto Centauro 73enne grave in ospedale siamo la pagina della cultura per arrivare poi a quella dello sport per parlare in questo caso sul quotidiano la città del Teramo la carica di Caidi parola d'ordine vincere il difensore a pochi giorni dalla prima sfida a Lumezzane dice gara fondamentale per la squadra la tifoseria e la città noi andiamo a ascoltare le parole proprio del difensore Biancorosso vincere vincere e salvarsi basta non c'è non c'è altro altro a cui pensare in questo momento siamo di fronte a due partite che decidono non solo una stagione ma il futuro di ognuno di noi e noi intendo giocatori città presidente direttore tutti quindi c'è poco da da dire c'è da andare in campo e da fare una una grande partita penso che il Teramo non debba assolutamente pensare ai due risultati ma a chiudere il prima possibile la pratica e cercando di di dimostrare sul campo il nostro valore ecco mi auguro che il Teramo sia quello delle ultime delle ultime giornate al di là poi si voglia dire risultati magari potevano essere meglio però se andiamo a guardare abbiamo sempre avuto le nostre occasioni per vincere le partite e abbiamo subito meno quindi sarebbe ottimo fare un tipo di prestazione domenica come abbiamo fatto le ultime e forse anche qualcosa di più perché sicuramente play out è un campionato a parte loro è una squadra da quello che mi ricordo si difende molto bene dietro ha due ottimi difensori è una squadra compatta sfruttare le ripartenze ha gli esterni forti e comunque è una squadra che in campionato ci ha portato via quattro punti cioè quindi è una squadra da non sottovalutare ma allo stesso tempo da non aver paura ecco queste le parole del difensore centrale del Teramo Teramo che come vi dicevamo domenica giocherà la gara di andata dei play out in casa del Lumezzane la settimana successiva il ritorno al Bonolis siamo alle pagine del sport dal centro la festa bianconera Juve storico Tris di Coppa 2 a 0 ieri sera la Lazio terzo successo di fila dodicesimo in assoluto Dani Alves e Bonucci sbancano l'Olimpico e regalano la vittoria sulla Lazio poi vedete in basso Aiden investito in biciclette grave il pilota campione del mondo nel MotoGP del 2006 travolto da un'auto a Misano in Romagna nella pagina successiva si parla di ciclismo il giro del centenario ieri c'è stata la vittoria dello spagnese Omar Frail lo spagnolo che attacca sull'appennino tosco emiliano settimo l'abruzzese Dario Cataldo da Mulin resta in maglia rosa siamo allo sport di casa nostra parola all'esperto in questo caso Perinetti direttore sportivo di lunga data di grande esperienza dice Zeman come me un anziano con idee giovani il direttore sportivo del neopromosso Venezia anticipa il prossimo campionato di B sarà molto incerto Pescara e Palermo il paracadute dice Perinetti è un bel vantaggio ma i soldi vanno spesi bene e intanto Zeman ha scelto il bomber per il prossimo anno si tratta del figlio d'arte Gans a Roma incontro per la punta di proprietà della Juventus che quest'anno gioca con il Verona Juventus che vuole Coulibaly Orsolini pista difficile per il giocatore dell'Ascoli e poi vedete nella pagina successiva invece si parla di Lanciano la società dei Maio la Virtus infatti va al concordato preventivo siamo alla pagina della Lega Pro Caidi niente calcoli il Teramo deve giocare per vincere lo abbiamo ascoltato pochi istanti fa poi si parla di playoff di serie D parla Pepe dice l'Aquila quanti rimpianti il difensore siamo i più forti del girone dispiace sia andata così pagina successiva invece che tratta di basket la serie A2 gli spareggi delle abruzzesi Roseto ora punta sul fattore campo per battere la Virtus quarti di finale playoff la serie sull'1-1 domani e domenica si giocherà il Palamaggetti previsto il pienone sugli spalti invece per quanto riguarda la lotta salvezza il presidente di Cosmo crede nella salvezza dei suoi dopo l'1-1 di martedì noi determinati mentre ho visto i romagnoli nervosi vai proger devi vincere a Forlì dice il patron della formazione teatina in basso si parla di serie B il presidente dell'amatori pescara di Fabio accende gara 3 con la poderosa polemica tra il presidente pescarese Montegranaro il Campli al Pala Borgognoni per conquistare la finale anche la formazione farnese sta disputando i playoff per la promozione siamo all'ultima pagina di sport almeno per quanto concerne il centro Bascia chiama l'Aquila tutti a Parma per sostenerci domenica la finale playoff della serie A di Raghi parla la terza linea nero-verde noi abbiamo un collettivo migliore i Medicei hanno più individualità di spicco si parla della formazione fiorentina che dunque contende all'Aquila la promozione nella serie Elite di spalla vedete l'articolo che riguarda il calcio a 5 Colini sferza il Pescara Mammarella carica l'acqua e sapone domani semifinali scudetto per le due formazioni pescaresi e siamo quasi in conclusione andiamo a vedere abbiamo il tempo per andare a vedere le pagine dello sport del messaggero prima di chiudere l'appuntamento di oggi con mattino 6 abbiamo visto dal centro le notizie che riguardano il Pescara il Teramo il calcio dei playoff e anche il basket con Roseto Chieti impegnate in questa seconda fase della stagione il Roseto per centrare una promozione in Serie 1 che sarebbe nuovamente storica per la formazione degli Sharks la Proger Chieti impegnata invece a difendere la categoria nei playoff salvezza con la formazione romagnola del Forlì ma andiamo a vedere le pagine come vi dicevo dello sport il messaggero ecco la prima Pescara caccia al tridente dagli attaccanti attualmente in rosa degli attaccanti non resterà nessuno Pavone Leone a caccia di esterni low cost per il Boemo seguiti Chiricò del Foggio Floriano della Cararese è giorno della Casertana Udinese sondaggio per Birà che abbiamo visto sul centro come il Pescara abbia soprattutto come Zeman abbia individuato in Gans figlio d'arte l'attaccante ideale per la prossima stagione e poi ieri incontro con la Juventus per Coulibaly a proposito di Pescara vi ricordo che oggi alle 15 Biancazzurri giocheranno un amichevole a Pescina con la formazione laziale del Fondi Unicusano calcio a 5 per il Delfino Pescara Napoli il pericolo e la stanchezza in basso parla l'allenatore dell'Acqua e Sapone Ricci che dice Acqua e Sapone ora sei in clima playoff Teramo vincere e basta dice il difensore Caidi mentre in serie di Pupeschi e parla dell'Aquila che dice Arrieti senza assilli poi basket Roseto con la Virtus serie ancora aperta 1-1 ricordiamo dopo le prime due partite invece il rugby con l'Aquila e i tifosi già pronti per lo spareggio di Parma tornando al basket è sempre la serie 2 Proger una vittoria che dà fiducia quella ottenuta nella gara 2 dei play-out salvezza ma ora serve un colpo a Forlì in basso si parla dei play-off di serie B il tecnico del Campi Millina dice orgoglioso di questa squadra l'amatori Pescara dopo le due sconfitte a Montegranaro parla il presidente Di Fabio arrabbiato con i suoi evidentemente ma non solo per le prime due sconfitte dei suoi ragazzi che ora giocheranno le prossime due gare l'eventuale gara 4 solo in caso di vittoria in gara 3 al Palalettra contro Montegranaro siamo così giunti al termine dell'appuntamento odierno con Mattino 6 appuntamento che tornerà domani puntuale come ogni giorno alle 7 io ringrazio Claudio Di Giacomo in regia ringrazio voi per averci seguito e vi rinnovo l'appuntamento invece con l'informazione di TV6 oggi alle 14 per la prima edizione del nostro telegiornale buona giornata e vi rinnovo per la prima edizione e vi rinnovo